Per l'edizione settima dopo il sisma e sessantaduesima della sua giovane storia, la processione del Venerdì Santo dell'Aquila ha riaperto il passaggio in alcune vie del centro storico. Un passo dopo l'altro la processione si riappropria del centro città con la speranza di tornare a ripercorrerlo interamente come era prima del 2009. La processione, uscita dalla Basilica di San Bernardino, interamente restaurata con un investimento di 25 milioni di euro, è passata ai quattro cantoni, a Piazza Palazzo e sotto la Torre Civica. Quindi ha attraversato via Marrelli, Piazza Duomo, una piccola deviazione sulla parte bassa per la presenza dei cantieri. Il transito poi è proseguito davanti alla Chiesa delle Anime Sante, quindi ha recuperato il corso per fare il suo rientro nella Basilica di San Bernardino. Tra i canti e la devozione della processione del Cristo morto dell'Aquila non è mancato però lo strascico delle polemiche sulla mancata affissione del crocifisso in Consiglio Comunale. Come è annunciato, i consiglieri del centro-destra si sono tirati indietro rispetto alle altre autorità. Giunta, Sindaco, c'era la senatrice Stefania Pezzopane e il presidente della provincia Antonio De Crescentis. Il passo indietro è servito per protestare contro la mancata affissione del crocifisso nell'Aula Consigliare. Io non ho cacciato nessuno, si sono allontanati loro, sono piccoli, anche in questo ha sottolineato il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. I consiglieri di centro-destra hanno riferito da canto loro che il primo cittadino avrebbe detto tra noi e loro ci devono stare almeno i carabinieri. Tra i rappresentanti di questa singolare protesta per il crocifisso anche la senatrice del Movimento 5 Stelle, Enza Blundo.